Buongiorno. Buongiorno. Benvenimi, siamo d'accordo. Del caso se ne occupo le carabinie. Va benissimo. Dottoressa, le posso offrire un caffè? No, grazie. La prego, insisto. E bevite la testa a schifezza. Ah, se insiste. Buono. Buono. Buono, prego. Grazie. Andiamo. Certo, tuttoressa. Ah, è coliantro. Mi raccomando, non ti dimenticare di quell'altra cosa di cui ti ho parlato, eh. Vieni. Cioè? La bicicletta, coliandolo. Ma certo, non si preoccupi se non c'è sul pezzo. Tranquillo. Quella della fila del prefetto? Che si è tanto raccomandato, eh. Ispettore, che facciamo? Ci facciamo fregare un'altra volta dei carabinieri? Parlando di carabinieri bravi, quel brigadiere... Gambardella. Bove. Eh. Bove. Anche un mio ragazzo, direi, eh. Abastava, 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 alessi, avya. Grazie.